Dopo l'intervento abbiamo accelerato un po' i tempi di recupero, purtroppo si è capitato questa infiammazione tra il secondo e il terzo dito che mi ha lasciato un paio di giorni fuori per una piccola infiammazione, però niente di preoccupante, sono già guarito, sto bene, mi sento bene, adesso ci manca solo lavorare un po' sull'aspetto atletico per mettermi in condizione di giocare 90 minuti. E' difficile parlare se è la difesa che sta male o è l'attacco, in questo momento secondo me è la squadra che deve reagire, che deve buttare fuori tutto quello che ha, perché secondo me non si mette in discussione quello che abbiamo come squadra. Tutti abbiamo fatto vedere il primo girone che abbiamo fatto delle cose abbastanza buone. Il secondo girone di ritorno sicuramente è stato brutto, io che sono stato fuori è brutto da vedere, perché non è quello che stiamo facendo vedere, non è quello che abbiamo dimostrato sicuramente il girone è andata. Quindi in questo momento è importantissimo tirare tutto quello che abbiamo, tutta la rabbia, tutta la concentrazione per dimostrare che sicuramente non abbiamo gli stessi obiettivi che pensavamo all'inizio di stagione, però dobbiamo dimostrare che come squadra ci siamo ancora in corsa per qualche cosa importante.